Benvenuti al centro di notizie e gossip. Prima di immergervi nelle novità del giorno, un mi piace e la vostra iscrizione al canale sono per noi segni immensi di apprezzamento. Grazie di cuore. Ora, passiamo alle notizie che stanno tenendo tutti con il fiato sospeso, specialmente i fan di Loredana Bertè. La nostra amata cantante è stata recentemente ricoverata per un'operazione d'urgenza all'ospedale San Raffaele di Milano. L'ansia era tangibile tra i suoi ammiratori quando è giunta la notizia che il tour sarebbe stato messo momentaneamente in pausa a causa delle sue condizioni di salute. I fan, naturalmente, si sono riempiti di domande e preoccupazioni riguardo alla possibilità di rivederla presto esibirsi. In mezzo a quel caos, è stata data una speranza, si è detto che solo dopo l'operazione si sarebbe potuto fare un quadro chiaro della situazione. E ora, eccoci con delle novità rincuoranti, Loredana sta decisamente meglio. Ha voluto lei stessa far sapere a tutti i suoi sostenitori che le cose stanno prendendo una piega positiva. E con l'entusiasmo che la contraddistingue, ci invita tutti a non mancare ai suoi prossimi appuntamenti live, ciao a tutti, sono Loredana, direttamente dal San Raffaele. La visita è andata benissimo e ora si parte con la riabilitazione. Non vedo l'ora di tornare a esibirsi per voi. Ci vediamo a luglio, sarà un tour italiano da non perdere.